Ci siamo tutti, buongiorno e benvenuti a questo nostro primo appuntamento del 2015 con l'FWL Santa Teresa per questa brevissima conferenza stampa. Ringrazio tutti i giornalisti presenti e colgo l'occasione per fare un augurio di buon anno ai tifosi, alla stampa, a tutti gli sponsor, a tutti i soci ordinari, a tutti coloro che condividono con noi questo progetto. Come vedete dai presenti dietro il tavolo, questa è l'occasione per presentare l'ultimo arrivo in casa di FWL che ha ambra composto. Prima di entrare nel dettaglio tecnico, approfitto della presenza di uno degli assi portanti della nuova struttura societaria Maragazzi Allegra per fare un piccolo bilancio di questi primi tre mesi. Tu sei arrivata da poco, cosa ti senti di dire? Il bilancio di questi primi tre mesi non può che essere positivo, sia dal punto di vista proprio con pagina sociale perché c'è un affiatamento importante e costruttivo che ha portato poi a dei risvolti positivi anche in campo, quindi dal punto di vista sportivo. I risultati sono sotto gli occhi di tutti, siamo primi in classifica, grandi soddisfazioni ma la cosa più importante è che il gruppo funzioni e quindi c'è un buon affiatamento anche dal punto di vista spogliatoio e naturalmente dal punto di vista societario. Quello che ci auguriamo per questo nuovo anno è che i risultati continuino ad essere positivi e questo dicono le nostre ragazze da questo punto di vista ci fanno ben sperare e che sia un anno di grandi soddisfazioni e di grandi vittorie come del resto ci siamo spiegati fin dall'inizio e proprio per questo abbiamo lavorato. Quindi mi auguro veramente di raccogliere i frutti a fine anno sportivo. Ringrazio Mare Cazia Allegra, come ho detto è un incontro veloce quindi faremo degli interventi tutti abbastanza brevi. La ringrazio per l'apporto che hai dato a livello sostanziale e anche a livello organizzativo, insomma sei stata una delle persone più importanti di questa nuova struttura. Adesso cedo la parola a Natale Rigono che presenterà dal punto di vista tecnico AMBRA e che tra l'altro la traccerà anche lui con primo bilancio, anche lui è una matricola di questa società dal punto di vista tecnico. Grazie Massimo, buongiorno a tutti. Il bilancio è sicuramente un bilancio lusinghiero per la nostra società. Al di là della vetta della prima squadra sappiamo che c'è un movimento dietro le quinte, un enorme movimento, un potenziale soprattutto un movimento sportivo fatto di cento ragazzine che girano attorno alla nostra squadra. La serie D è imbattuta, abbiamo anche dei risultati lusinghieri per quanto riguarda tutto il settore giovanile. L'Under 18, l'Under 16 è prima in classifica, così come l'Under 14. Abbiamo un movimento di base di 70-80 ragazzine che ci permette davvero di sperare bene per il futuro. Andiamo però a quello che è l'argomento di oggi, ad accendere i riflettori sulla nuova arrivata, su AMBRA composto. È un momento molto importante, è un'opportunità, la finestra del mercato, da tempo io dico Massimo, che la finestra del mercato di dicembre, il mercato invernale è qualcosa di molto importante. Ma è importante per società importanti, come quella che sta costruendo il Santa Teresa Volley. Costruirsi infatti l'opportunità di avere, diciamo, alla corte del nostro mister Claudio Mantaro, atleti di rango come AMBRA composto, non è sicuramente facile. Ed è il frutto di tanti sacrifici, sacrifici societari, della serietà anche che la società ha dimostrato in questi primi mesi della nuova gestione, nella nuova struttura societaria, è anche, diciamo, il frutto di ottimi risultati sportivi fatti dalla nostra squadra e dal nostro staff tecnico. Io sono particolarmente contento, ecco, dell'arrivo di AMBRA per due motivi. Intanto perché è la dimostrazione della concretezza, della serietà della nostra società. Vorrei spendere una parola in particolare per chi ci ha lavorato tanto sull'arrivo di AMBRA composto, ed è il signor Sebastiano Leo che, come sua consuetudine, in un paio di giorni ha concluso brillantemente questo arrivo. Sono anche contento, diciamo, perché era un mio pallino, era un mio sogno, AMBRA, un mio sogno estivo, e realizzarlo anche in corso d'opera mi dà davvero tanta soddisfazione. Noi faremo in modo che AMBRA si senta a casa sua, con il calore e l'affetto dei tifosi, con, diciamo, le attenzioni e la dedizione dei nostri dirigenti, in maniera tale da aggregarsi immediatamente e da integrarsi al nuovo contesto. Ti voglio rubare però solo qualche minuto, non solo per augurare un buon anno sportivo a tutti coloro che ci seguono, ma per ringraziare davvero tre persone particolarmente importanti, che lo sono stati in un momento di particolare difficoltà per la mia famiglia, da un punto di vista logistico e anche affettivo, e sono Sebastiano Leo, Vittorio Cilona e Mimmo Triolo. Sono stati capaci di farmi trascorrere le feste natalizie accanto ai miei affetti. Grazie di cuore. Grazie Natale. Queste due parole testimoniano lo spirito familiare e di solidarietà che c'è nella nostra società, che non è solo un momento sportivo, come dico io, ma anche un momento di aggregazione sociale. Chi vive questa realtà sa che la nostra è una famiglia, prima che essere una società, è sicuramente uno dei nostri segreti. Adesso passiamo ad aprire il riflettore, come dicevi tu, sulla protagonista. L'ultima arrivata è in casa F, la ciliegina sulla torta, come dicono qua già i tifosi. Ha 27 anni, nata e cresciuta a Palermo, comincia nel GS Volley dove a sole 15 anni esordisce in Serie C fino al 2004. Dal 2004 al 2008 gioca nel PVT Motica in B1, 2008-2009 Costanzo Siracusa B2 con promozione diretta in B1, poi due stagioni col PM Potenza in Serie B1. Quindi Eraclea Gela B2, playoff promozione, 2011-2012 Volley 2000 Porto Reganati in B2, dove fai playoff promozione, 2012-2013 Agragas sempre in B2 con promozione diretta in B1. Lo scorso anno sempre all'Agragas, B1, playoff in A2. Quest'anno inizia in B1 a Siracusa e adesso è qui accanto a voi. Un applauso per Ambra Composto, a cui cedo il microfono. Grazie a tutti, intanto buon anno e auguri a tutti quanti. Volevo ringraziare assolutamente la società per avere puntato su di me, sia all'inizio dell'anno, poi non è andata, però adesso sono qui, quindi grazie comunque perché hanno dimostrato davvero l'interessamento, anche a distanza di tempo. Niente, mentre tu parli io faccio vedere la maglia di gara, che sarà la tua... Il mio numero purtroppo non ce l'ho più, ho dovuto rinunciare perché era già occupato. Ho questo numero che era il mio numero prima che iniziassi, diciamo, la Serie C, subito prima della Serie C. Però, diciamo, speriamo apparti fortuna. Mentre tu magari tieni la maglietta in mano ti faccio qualche domanda. Ecco, quali sono le prime impressioni che hai avuto arrivata qui a Santa Teresa? Ma assolutamente un'accoglienza calorosissima, nonostante il freddo che abbiamo preso tutti quanti. No, sto molto bene, i dirigenti, anche le ragazze sono stati carinissimi, tutti quanti, molto accoglienti, simpatici. Mi sembra che si stia molto bene qui. Ecco, la trattativa è stata velocissima, come diceva Natale Enricono, anche perché il nostro riferimento massimo, Sebastiano Leo, è abbastanza veloce nei suoi movimenti. E quindi, praticamente, ti aspettavi di chiudere questo cambiamento in corso? No, vabbè, uno, diciamo, quando va in una società spera sempre che non ci siano problemi e che non si debba andare via a metà stagione, è sempre brutto. Purtroppo situazioni varie mi hanno portato a questa scelta e, diciamo, grazie a Sebastiano sono stata molto convinta a venire a sposare la vostra, diciamo, idea e progetto. Ecco, una curiosità ti volevo fare, una domanda. Tu che vivi la palla a volo, insomma, sei in certi ambienti, in certe categorie, già da diversi anni. Ecco, avevi sentito mai parlare del nostro fenomeno qui a Santa Teresa, magari in giro per la Sicilia. Ma, onestamente, l'anno scorso di più, perché, appunto, sapevo che Sara Casale era venuta a giocare qui, che è una mia amica, e ho saputo l'anno scorso di questa società, anche perché credo che prima non... Sì, esatto, quindi non c'eravamo neanche scontrati per quello. Infatti, prima di venire ho parlato con Sara, proprio per questo, per sapere com'era la situazione qui. Anche grazie a lei ho deciso di sposare il vostro progetto. Va bene, per oggi mi sembra che può essere tutto. Avremo tante occasioni per incontrarci nelle nostre conferenze stampa. Io ringrazio Maria Grazia Allegra per la sua presenza, Natale Enricono, Ambra Composta, tutti i giornalisti presenti, e ci rivediamo alle prossime occasioni. Grazie.